Ciao a tutti e ben ritrovati su Monster Hunter 3 Ultimate. Io sono sempre DarkGriever e oggi continuiamo con le missioni del vidaggio di Moga. Oggi si va a caccia di un Gigi Nox. Oggi si va a caccia di un Gigi. Il Gigi Nox ricorda molto il Kezu. State attenti al suo veleno. Per ogni informazione sul Gigi Nox la guida si trova in descrizione. Per ogni informazione sul Gigi Nox. Per ogni informazione sul Gigi Nox. Per ogni informazione sul Puberth by Per ogni informazione sul Gigi Nox . Per ogni livello da I sectioni un Gigi Nox. Per ogni informazione che streffa per arrivare nelleium si stava. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.